ciao ragazzi benvenuti e bentornati qui sul mio canale guidi su misura sono andrea anche oggi andiamo a vedere un'applicazione che ci permetterà di guadagnare soldi su paypal condividendo la nostra linea internet infatti con questa applicazione noi non dovremo fare altro che registrarci dopodiché scaricare attraverso il sito l'applicazione che ci permetterà appunto di condividere la nostra linea internet dopo aver fatto questo potremmo iniziare a guadagnare in automatico lasciando l'applicazione aperta potremmo utilizzarla contemporaneamente con più dispositivi android o windows a patto che abbiamo un ip diverso quindi per poter collegare più dispositivi abbiamo bisogno di più linee quindi sicuramente abbiamo tutti a casa almeno una linea adsl e una linea mobile sullo smartphone possiamo tranquillamente scaricare l'applicazione e tenerla attiva in background mentre su windows possiamo benissimo utilizzarlo per esempio quando accendiamo il computer e la teniamo sempre attiva perché comunque non consuma molto a livello di banda e neanche a livello di risorse energetiche dobbiamo ricordarci di andare qui in basso una volta che abbiamo installato la versione di windows e attivare queste due spunte per la condivisione di internet e per il lancio ogni volta che avviamo windows l'applicazione si avvierà in automatico per quanto riguarda invece la versione android dobbiamo ricordarci di andare sulle impostazioni quindi more setting e dobbiamo attivare tutte le spunte tranne set mobile e data limit tutto il resto io vi consiglio di attivarlo cioè la condivisione internet e disabilitare il salvataggio quindi della batteria in modo che l'applicazione rimanga sempre attiva quindi vi consiglio di attivare tutte queste spunte detto questo ragazzi vi faccio vedere una volta che cliccherete sul link per registrarvi riceverete subito 5 dollari il link lo trovate ovviamente sulla descrizione di questo video in basso ci ritroveremo su questa pagina dove potremo appunto registrarci una volta che avremo inserito i nostri dati e confermato la registrazione attraverso la nostra email ci ritroveremo quindi sul nostra dashboard e qui potremo finalmente scaricare la versione di android o di windows o a seconda del dispositivo che abbiamo una volta che abbiamo appunto scaricato la versione che ci interessa ci ritroveremo qui sulla nostra dashboard ragazzi e incomincieremo quindi a guadagnare come vedete qui abbiamo appunto i nostri punti qui io ho guadagnato già quasi 12 euro a raggiungimento di 20 euro potremmo ritirare in automatico i nostri guadagni sul nostro account paypal ok ragazzi anche per questa applicazione è tutto se avete dei dubbi delle domande fatemelo sapere qui in basso nei commenti lasciatemi un like dislike se vi è piaciuto il video e se avete altri consigli o volete che vi porti altre applicazioni in generale sul guadagno online scrivetemelo sempre qui in basso sui commenti tutti i link sono in descrizione ci sentiamo alla prossima ragazzi a presto ciao ciao